va bene allora oggi che è l'ultima lezione praticamente prima della pausa lo dedichiamo a completare un po di esercizi sul tema dei KPI giusto per un pochino cercare di comprendere meglio qual è l'approccio che dobbiamo adottare quando abbiamo questo compito da portare avanti quello di definire i KPI parto da qualche osservazione relativa ad esempio le difficoltà che alcuni hanno avuto nel laboratorio di ieri dove quello che vedo un po forse un tentativo da parte di alcuni di essere esaustivi cioè definire ogni possibile criterio ogni possibile caratteristica che possa essere di interesse questo è certamente possibile nel senso che io posso prendere un qualunque processo per questo processo scegliere uno degli stakeholder a piacere e poi posso chiedermi sulla base di queste categorie che abbiamo qui riassunto nella nostra figura questa posso chiedermi allora per quel processo per un certo tipo di stakeholder quali sono dei KPI di efficienza quali sono in particolare quelli di costo unitario come li possiamo esprimere e allora lì mi chiederò sì possiamo definire il costo unitario decidendo che cos'è per noi il costo costo di acquisto il costo in euro il costo in termini di tempo impiegato il costo in termini di risorse il costo in termini di materie prime per unità che cos'è per me l'unità l'unità è l'ordine arrivato è il pezzo prodotto è il semi lavorato quindi sulla base di di un concetto costo unitario posso generare molti indicatori possibili a seconda appunto dei singoli processi di qual è il significato di costo qual è il costo di qual è il significato di unità idem la produttività che di fatto è poi il l'inverso del costo unitario cioè le unità prodotte per unità di risorsa quindi mentre costo unitario è costo fratto unità quindi abbiamo una risorsa spesa un costo fratto una produzione unità la produttività è praticamente contrario dell'inverso quindi e immaginiamo di poterlo fare su su tutte queste categorie ciò che otterremmo è sono saranno probabilmente 100 indicatori diversi per un processo per uno stakeholder di quel processo a quel punto uno dice di questi 100 quali sono quelli più importanti rispetto ad altri più significativi rispetto ad altri che capiamo che questo procedimento è molto oneroso cioè porterebbe via una quantità di tempo incredibile per generare molti indicatori e per poi alla fine scegliere due o tre ok quindi quello che conviene fare e scusatemi l'altro problema è che nella scelta degli indicatori ci si farebbe guidare da quelli che sono gli indicatori possibili quindi come se vi chiedessero scrivimi una funzione matematica che descriva che ne so l'andamento di un certo fenomeno che ne so il moto dell'ascensore per dire e quindi accelera poi va costante poi si ferma eccetera e voi anziché partire da analizzare il moto quali sono gli aspetti il fatto che è fermo poi accelera poi si muove poi arriva proviate a costruire tutte le possibili funzioni matematiche usando la somma, la sottrazione, la moltiplicazione, l'integrale, la derivata eccetera e poi dice ma di queste qui ci sono queste due o tre che approssimano meglio, che rappresentano meglio questo moto se vogliamo teoricamente è possibile, è chiaro che questo è un esempio un po' al limite ma non è produttivo allora io quello che consiglierei di fare proprio come metodo di lavoro è cercare di fare come ho provato a suggerirvi nella lezione scorsa adesso proviamo a rimetterlo maggiormente in evidenza cioè prima provo a dirmi, mi guardo negli occhi e mi dico quali sono le cose più importanti dal punto di vista di quello stakeholder cioè quello stakeholder lì se dovesse dirmi una o tre o cinque proprietà per lui prioritarie relativamente a quel processo quali sarebbero? e a questo livello non stiamo ancora pensando all'indicatore, alla formula, alla metrica ma stiamo pensando veramente di quel processo che valore porta dove produce valore, dove consuma risorse, dove produce problemi quindi dove possono nascere i problemi e a seconda del processo, a seconda dello stakeholder il punto di vista potrebbe essere diverso allora quello che avevamo iniziato a fare martedì scorso, nella seconda metà della lezione era quello di porci sul processo di iscrizione dal punto di vista del partecipante e ci siamo chiesti al partecipante cosa importa in fondo, in sostanza, in essenza del processo di iscrizione che sia facile, veloce ed efficace sia facile cioè porti via poco tempo, poco sforzo sia efficace cioè alla fine mi permetta di essere iscritto in un team con il minimo tempo, il minimo sforzo possibile cose di questo genere e questo abbiamo provato a scriverlo qui abbiamo provato a mettere tre perché tre erano, diciamo così, le declinazioni di questo concetto che ci venivano in mente solo dopo in un certo senso sono andato a ragionare per capire come farla misurare a inventarmi un indicatore che fosse una misura speriamo affidabile di quella caratteristica di quell'obiettivo ok? perché altrimenti non abbiamo un criterio, un metro per poter dire ho 10 indicatori qual è il migliore per me sono tutti uguali nel senso che alla fine sono tutte formule che mi tirano fuori un numero quale di questi due numeri è il più importante? ecco, se la facciamo dopo questa domanda diventa molto difficile da rispondere facciamocela prima che cosa voglio sapere? che cosa voglio capire di questo processo? quindi, ad esempio, io avevo ipotizzato che al partecipante interessasse evitare delle attese nella formazione del team questo è un obiettivo spesso sotto forma di obiettivo io voglio io partecipante voglio evitare attese allora, come faccio a definire a questo punto un indicatore numerico che mi permette di valutare se quell'obiettivo di evitare attese viene raggiunto e immaginandoselo nel tempo dal 2016, 2017, 2018 questo obiettivo viene migliorato oppure peggiorato dal punto di vista visto che è una qualità utile richiesta dal punto di vista del partecipante allora come lo misuro? e quindi passo diciamo così al riquadro successivo in cui mi interrogo su una procedura una strategia quindi il campo si chiama procedure ma a me mi viene più da chiamarlo strategia da che parte lo giro sto processo per tirar fuori un'indicazione sul fatto che il partecipante non debba avere delle attese inutili nella formazione del team allora questo lo potrei misurare ad esempio vabbè attesa mi fa venire in mente un tempo quindi il tempo che io devo attendere aspettare tempo morto che si frappone tra la mia richiesta di essere inserito in un team e l'accettazione di quella richiesta lì oppure di un'altra richiesta quella in cui finalmente verrò accettato quindi a me verrebbe ragionando su questo di misurare il tempo tra la mia prima richiesta e l'accettazione che poi è separato rispetto al 2 il 2 va a misurare quante volte quante richieste devo fare ah mi rifiuta devo riprovare mi rifiuta devo riprovare con un'altra e così via quindi questa è più la misura dello sforzo del lavoro che devo fare questa invece è una misura semplicemente di tempo perché può darsi che mi accetti il primo a cui ho fatto la richiesta ma è particolarmente lento e mi accetta solo dopo una settimana non mi ha risposto subito ma poi quando risponde risponde di sì è una dimensione diversa è una cosa diversa è chiaro che io come partecipante preferirei che mi rispondessero in fretta e mi dicessero sì quindi che fosse al massimo il KPI numero 3 e forse al massimo il KPI numero 2 dove in realtà massimo vuol dire un numero piccolo perché sono tutti KPI che misurati così numero di richieste da fare più è grande peggio è più è piccolo meglio è quindi è un numero che deve essere minimizzato quindi io vorrei il 2 al più piccolo possibile e il 3 al più piccolo possibile ma vanno a misurare due aspetti diversi complementari dello stesso pezzo di processo il 3 somiglia molto di più forse all'1 andiamo a vedere che differenza poi si cita il 3 e l'1 l'1 l'abbiamo definito come la durata media del processo di iscrizione è TB meno TA nel diagramma di processo avevamo preso l'altro no iscrizione eccolo qua avevamo indicato A come il momento in cui il partecipante si iscrive all'hackathon e B come il momento in cui il team viene formato se misurassimo un tempo di attesa nella formazione del team che cosa dovremmo misurare allora vediamo cosa fa questo token dal punto A c'è un certo tempo che viene speso dal partecipante per perfezionare la propria iscrizione all'hackathon questo è il tempo che lui ci mette a compilare la richiesta di iscrizione non lo posso certo imputare a un'attesa da parte del processo se ci metto tanto tempo a fare questa fase è colpa tra virgolette dell'utente è un periodo di tempo che calcolo nell'indicatore 1 perché fa parte dello sforzo complessivo di completare il processo cioè lui deve magari un modulo complicatissimo deve fornire il curriculum la foto di quando era bambino che aveva 6 anni il primo ciuccio che ha avuto eccetera e gli prende via due giorni di lavoro per completare questo processo allora è un processo oneroso implica uno sforzo da parte dell'utente ma non per questo ho un ritardo nella formazione dei team quindi separiamo cerchiamo veramente di usare queste definizioni questi obiettivi che ci siamo dati come un rasoio di Ockham cioè che cosa c'entra e che cosa non c'entra atteniamoci alla definizione che abbiamo dato dopodiché il partecipante richiede di unirsi al team di un altro partecipante il sistema informativo immediatamente di nuovo qui c'è un certo tempo in cui io richiedo di unirsi al team ma non è un tempo di attesa non è un tempo in cui il partecipante rimane in attesa e poi parte in automatico dopo che il partecipante ha selezionato l'altro partecipante a cui manda la richiesta questa richiesta parte istantaneamente e questa richiesta aspetta perdon qua sotto fin tanto che l'altro partecipante non abbia dato una risposta affermativa o negativa noi sappiamo che questo scambio di segnali è perché la risposta del partecipante avviene in un altro processo parallelo allora la vera attesa avviene da quando di fatto da qui da quando l'utente il partecipante ha finito di inserire la sua richiesta a quando arriva la risposta perché poi se questa risposta è un no il partecipante dovrà di nuovo essere posto di fronte alla scelta di un'altra domanda da fare a questo punto deve fare del lavoro quindi è uno sforzo che si accumula un effort che si accumula al lavoro che ha già fatto ma non è più un'attesa il tempo di attesa strettamente è quello tra quando lui ha finito di fare la domanda e quindi il sistema informativo istantaneamente l'ha mandata e quando arriva una risposta questo da qui a qui quindi possiamo aggiungere dei segnalini un punto C che magari metto allora che io lo metta qua oppure qua sotto o ancora qua sotto non cambia nulla perché l'invio di segnali da parte del sistema è qualcosa che avviene in automatico possiamo concepirlo come una cosa istantanea quindi dal punto di vista dell'utente forse più leggibile se lo mettiamo lassù subito dopo appena l'utente ha espresso un'opinione e l'attesa dal punto di vista dell'utente parte da qui e si conclude quando il sistema informativo avrà ricevuto una risposta quindi possiamo mettere un punto D qua sotto appena ho ricevuto il segnale che mi comunica che la risposta è stata acquisita C D questo è un tempo morto in cui il partecipante è in ansia perché ha fatto una domanda e non sa ancora la risposta e secondo che quella risposta sia buona o no sa che deve eventualmente fare o magari cominciare a lavorare a conoscere gli altri membri del team nel caso in cui la risposta sia sì oppure cercare qualcun altro e sa che nel frattempo man mano che i giorni passano gli altri team si formano e quindi più tempo passa più meno chance a lui di poter collaborare con le persone che gli piacciono questo qua è un periodo che sarebbe dal punto di vista del partecipante se fosse zero sarebbe l'ideale quindi noi stiamo la nostra strategia per valutare le attese che il processo introduce nella formazione dei team è quella di valutare diciamo il tempo misurare il tempo durante il quale il partecipante è in attesa di una risposta dopo di che questa è la nostra strategia da C a D è il periodo di ansia andiamo a misurare quanto dura quindi in qualche modo la nostra metrica si baserà su un Td meno Tc questo è l'intervallo di tempo questo è il singolo dato la singola misura che è una misura è una differenza di tempi e quindi è una misura nella scala dei rapporti un T un dato nella scala di intervalli la differenza tra due elementi nella scala di intervalli è nella scala dei rapporti adesso però è la singola misura non è ancora l'indicatore per ottenere l'indicatore deve in qualche modo riassumere attraverso degli operatori statistici la serie di dati che mi dà che mi dà ciascuno di queste misure allora quante di queste misure abbiamo? allora nel caso dell'indicatore numero 1 che gli somiglia un po' perché anche questa è una misura di tempi abbiamo una misura per ogni partecipante perché ogni partecipante che vuole fare l'iscrizione passa dal punto A e poi in realtà un sotto insieme di partecipanti quelli che riescono a partecipare nella riscrizione passano dal punto B abbiamo deciso di escludere dal punto 1 coloro che non riuscivano a entrare quindi vabbè quindi è solo un sotto insieme qui vuol dire che su un hackathon con 100 persone io avrò 100 misure di cui faccio la media qui è più complicato invece l'indicatore 3 è più complicato perché ogni singolo partecipante può fare più richieste e ogni richiesta ha un tempo di attesa diverso infatti ad esempio l'indicatore 2 dove parlavamo proprio del numero medio di richieste siamo proprio andati a valutare quante richieste deve fare un partecipante prima di poter essere accettato allora se io dovessi fare un valore medio di questa cosa qua rispetto a cosa la faccio la media la posso fare e adesso poi ragioniamo su cosa è meglio ma tecnicamente la posso fare o rispetto ai partecipanti quindi la somma di tutte quelle misure ogni volta che c'è un token passa da C a D prendo un tempo ho tanti tempi e alla fine sommo questi tempi e li divido per il numero di partecipanti la media rispetto ai partecipanti diciamo media poi magari ragioniamo su che cosa è meglio oppure lo posso fare la media rispetto alle richieste e il numero di richieste è chiaramente maggiore del numero di partecipanti guarda caso maggiore di un fattore che è dato dal numero di richieste medio che è l'indicatore 2 cioè tra questi due valori c'è uno scarto che è dato dal numero medio di richieste allora io posso fare quindi la somma di Tg meno Tc diviso numero iscritti oppure posso fare sempre la stessa cosa diviso il numero di richieste sono due modi diversi qual è più significativo la domanda da farci è qual è più significativo per il partecipante che ha questo obiettivo nella votazione del processo che misura il processo da questo punto di vista il secondo va a misurare in un certo senso la durata media del tempo di attesa cioè tu sai che mediamente quando fai una richiesta dopo due giorni ti rispondono la media magari ti serve l'ottantesimo percentile cioè io so che nell'ottanta percento dei casi mi rispondono dentro tre giorni forse è più significativo che non la media perché se mi deve dare però quello se vogliamo ci possiamo discutere su che cosa sia meglio usare come operatori di aggregazione se la media o un altro indicatore ma questo mi dice ogni volta che faccio una richiesta quanto tempo ragionevolmente dovrò attendere grazie a questo processo se io faccio tre richieste dovrò sottopormi tre volte a questo tempo di attesa che è il tempo di attesa misurato dal sistema viceversa se divido per il numero di iscritti io avrò un indicatore che mi dice guarda tenendo conto di tutte le richieste che eventualmente dovrai fare che magari sono 1 magari sono 2 magari sono 7 e se vuoi capire meglio vai a vedere l'indicatore 2 tenendo conto di tutte le richieste che eventualmente dovrai fare puoi aspettarti un tempo di attesa complessivo complessivo cioè la somma di tutti i tempi di attesa che potresti avere quindi se io faccio tre richieste la prima volta mi rispondo dopo due giorni la seconda volta mi rispondo dopo un giorno la terza volta mi rispondo dopo quattro giorni 1 più 2 più 4 fa 7 e quindi io avrò per me una misura che pare 7 giorni quindi è la somma dei tempi netti di attesa a voi cosa dice di più? qui c'è ovviamente un elemento di soggettività a me dice di più forse dividere per il numero di richieste perché poi io so quante richieste mi aspetterò di dover fare oppure se sono uno molto figo so già che mi dicono tutti di sì ma avere un valore aggregato somma dei tempi complessivi in cui non so quante richieste farò ma il valore cioè il numero che esce l'indicatore tiene conto già del fatto che in media gli utenti fanno tante richieste mi sembra più difficile decodificare tra l'altro sarebbe un indicatore multifattoriale dato da due cause cioè quest'altro indicatore dividendo per il numero di iscritti aumenta se aumenta nei tempi di risposta alla singola richiesta ma anche se aumenta il numero di no alle richieste per cui un eventuale aumento di questo indicatore non saprei a che causa attribuirlo allora visto che noi siamo in un processo di controllo in cui facciamo delle misure sulla base di queste misure andiamo a correggere il processo se abbiamo un indicatore che sta peggiorando ma questo indicatore può peggiorare per cause diverse e purtroppo siamo solo a metà del lavoro perché è la causa 1 o la causa 2 l'indicatore è peggiorato cioè questo questa sommatoria questa media è aumentata perché ci sono più no che sì rispetto al passato da parte delle persone invitate o perché le persone invitate rispondono più lentamente in realtà se ci sono più no che sì lo vedo già da questa parte dall'indicatore 2 quindi mi conviene avere l'indicatore 3 che sia in qualche modo calcolato al netto del fatto che ci siano tanti o pochi no ogni indicatore mi rappresenta una cosa ben precisa l'interpretazione è più immediata poi chiaro che il partecipante per poter stimare effettivamente alla cieca quanto tempo perderà moltiplicherà tra di loro questi due numeri tempo medio di attesa moltiplicato per il numero di attese medio ma è più facile fare la moltiplicazione di due indicatori ciascuno dei quali ha un significato molto diretto piuttosto che avere un indicatore aggregato che è più difficile da non torno più indietro ai singoli componenti quindi tra queste due io preferirei questo questo secondo non è che l'altro sia sbagliato o illegittimo cioè matematicamente sta in piedi benissimo rappresenta è una cosa diversa allora magari precisiamo meglio la procedura in cui misuriamo il tempo durante il quale il partecipante è in attesa di una risposta per ogni richiesta fatta altrimenti nell'altro caso avrei precisato scrivendo complessivamente su tutte le richieste fatte o una frase del genere allora che cosa ci ha guidato in questo ragionamento il trovare un numero che sia facile da interpretare rispetto al goal che avevamo definito la cui interpretazione di quel numero fosse la più fedele possibile rispetto a o ci desse più informazioni possibili rispetto a quel goal lì specifico quindi abbiamo ancora una volta purtroppo è poi il tema generale di tutto il corso affettato un processo da punti di vista diversi e quando guardiamo un punto di vista c'è il numero di errori numero di no ci dimentichiamo del tempo di risposta e quando guardiamo il tempo di risposta ci dimentichiamo del numero di risposta così abbiamo valutazioni indipendenti da punti di vista diversi che poi siamo sempre in grado di mettere insieme quindi vabbè dicevo da punti di vista statistico avendo fatto questa scelta in cui la nostra base è il numero di richieste e non il tempo totale una volta che l'ho scelto provo anche a venderlo meglio posso anche dire secondo me ha più senso anche perché vediamolo così qual è il fattore che mi fa dire di no indicatore numero due perché ricevo dei no perché non sono abbastanza bravo no negli occhi della persona a cui ho chiesto di essere invitato per poter essere accettato quindi dipende più da me dalle mie skill da quanto mi sono presentato bene ad esempio mentre invece il tempo di risposta dipende più da quanto è responsive l'altro no la persona che è stata invitata se risponde in fretta o lentamente se guarda le notifiche tutti i giorni oppure una volta al mese quindi in qualche modo veramente stiamo andando a misurare sono indicatori che vanno a misurare due lati diversi della relazione tra richiedente e richiesto quindi per quello che mi piace ancora di più pensando a questo fatto tenerli separati dal punto di vista formale invece numero di richieste cos'è che ho scritto qua il numero di richieste che ho scritto qua sarebbe un indicatore un KPI di tipo generale io ho poi sbagliato a chiamare questo già numero di richieste magari lo chiamo numero di richieste per partecipante mentre il numero di richieste assoluto è un KPI generale quindi possiamo aggiungere i KPI di tipo generale che ovviamente non dipendono dallo stackholder sono quelli di processo quindi in questo caso ne abbiamo già indovinato uno che è numero di richieste categori generale input volume è il volume di ingresso legato al volume di ingresso e a questo punto dunque l'obiettivo è valutare numero di richieste di un essere un team da parte di tutti i partecipanti la procedura è semplicemente contare le richieste quindi abbiamo un count della tabella della reazione richiesta richiesta o richiede si chiamava richiede la relazione si chiamava richiede l'unità di misura non c'è quindi è un numero assoluto cioè sarebbe il numero di richieste scala assoluta e ovviamente un KPI generale non ha bisogno di un'interpretazione perché non punta a raggiungere un obiettivo la fonte è il diagramma delle classi e in particolare la relazione richiede che abbiamo visto qua chi sa perché c'è una I maiuscola che è messa qua la relazione riflessiva tra partecipante richiedente e partecipante richiesto quindi questa definizione di KPI è un KPI generale di supporto perché mi serve per calcolare un KPI invece di interesse scriviamolo uguale allora dunque completiamo poi i dettagli di questa cosa qui l'unità di misura è secondi fratto tempo diciamo così fratto numero di richieste io questo lo bisognerei in ore non in giorni perché magari effettivamente faccio la richiesta gli arriva gli ha fatto il caso d'uso gli arriva la notifica sul cellulare magari risponde dopo mezz'ora quindi ore la categoria a cui appartiene è un tempo di attesa è il tipico tempo di attesa tra quando diciamo così il cliente richiedente l'utente fa una richiesta prima che questa richiesta venga presa in carico da qualcuno quindi è un KPA di tipo servizio tempo di lead lead time tempo morto in cui non succede nulla poi viene presa in carico e magari viene rifiutata va bene ma in quel tempo lì non sta succedendo nulla quindi un service lead time ci arriviamo dopo al al grafico no in cui incaselliamo le varie infatti lead time è un intervallo di tempi tra l'azione dell'utente e la risposta del sistema con l'azione quindi possiamo chiamarlo tempo di lead per la richiesta richiesta singolo perché così almeno ci ricordiamo che per ciascuna richiesta la fonte allora abbiamo td-tc che vengono misurati sull'attivity diagram e numero di chieste vabbè che è un KPI definito altrove che a sua volta è misurato sul class diagram ma qui non vado a riscrivere tutto quindi numero di chieste l'ho definito sopra e quindi è qualcosa che ho già ho già calcolato invece questo oltre che il numero di richieste che ho già calcolato mi servirà anche l'attivity diagram le misure prese sull'esecuzione dell'attivity diagram activity diagram e poi se vogliamo proprio per pignoleria dobbiamo anche aggiungere che ci serve anche la conoscenza del KPI del numero di richieste ma questo va bene si basa su quello c'è scritto lì l'interpretazione anche qua l'interpretazione al ribasso la risposta potrebbe essere ottima se è minore uguale a due ore accettabile se è minore o uguale a 24 ore se ho un tempo di risposta medio che è maggiore di 24 ore comincia a diventare un problema magari ho dei periodi di iscrizione di 15 giorni devo fare 3-4 tentativi se una persona ci mette 2-3 giorni a rispondere non è bene diciamo per carità è impostato in modo abbastanza diciamo aggressivo questo KPI ma giustamente io sto reclutando delle persone per fare un hackathon devono essere persone che nell'arco poi magari di un weekend riescono a lavorare insieme definire che cosa fare fare un prototipo progettarlo presentarlo quindi devono essere persone che rispondono in fretta comunque le sollecitazioni quindi mi sta bene per dire penalizzare le situazioni in cui i tempi di risposta sono lenti quindi se mi accorgo che il mio indicatore tempo di diritto alla richiesta diventa non di 24 ore ma di 36-48 ore c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va nei team nella formazione dei team o cambio meccanismo per cui cerco di evitare questo meccanismo di attesa di richiesta singola oppure faccio una selezione a priori delle persone quindi le persone che possono essere invitati sono solo quelle che hanno acquisito un certo punteggio in passato e quindi so già che sono affidabili e danno un buon tempo di risposta le soluzioni le possiamo inventare se c'è il problema se ci accorgiamo che questo diventa un problema ricordiamoci che quando un indicatore ha un valore non accettabile significa che dobbiamo mettere le mani al progetto che abbiamo fatto al processo cambiare il processo quindi non dobbiamo più ragionare ma il processo è così cosa ci posso fare no siamo qui proprio per poter vedere se il processo così com'è funziona bene se non funziona bene non è il nostro obiettivo dare la colpa a qualcuno il nostro obiettivo è con le condizioni al contorno che ci sono con i partecipanti che ci sono riusciamo a farlo funzionare meglio ok quindi non stiamo misurando questo per dire i partecipanti sono lenti a rispondere si prendiamo atto che sono lenti e quindi organizziamo il processo in modo che questo non diventi un ostacolo se possibile ecco su questo tipo di esempio è difficile da vedere sono difficili da vedere che API di tipo costo di tipo produttività efficienza eccetera perché qui non ci sono dei prodotti venduti acquistati non ci sono dei costi di vendita perché tutto diciamo è un processo puramente virtuale non ci sono dei beni prodotti che abbiano un costo che abbiano una disponibilità limitata eccetera quindi molti dei KPI che sono più legati all'aspetto produttivo qua non si applicano non ha senso definirli possiamo provare a fare lo stesso ragionamento se volete dal punto di vista dell'organizzatore ci accorgiamo che dal punto di vista dell'organizzatore questo processo lo stesso processo l'iscrizione di un partecipante viene visto in modo completamente diverso proviamo a vedermi cancello tutto e di nuovo mi chiedo quindi ho messo tre tanto per darmi un limite magari non riusciamo a trovarne tre furbi magari ne troviamo cinque e poi selezioniamo i tre migliori non lo so ragioniamoci insieme allora dal punto di vista dell'organizzatore rimettiamo il processo e questo è più curioso perché l'organizzatore non partecipa a questo processo è uno stakeholder puro uno stakeholder non attore allora finora abbiamo descritto degli indicatori che fossero in grado di misurare quanto può essere soddisfatto l'attore di questo processo perché tutte le attività qua vengono svolte dai partecipanti poi in realtà per vedere il punto di vista dei partecipanti completo dovrei anche prendere il processo di accettazione di una richiesta accettazione oppure rifiuti di una richiesta e il processo di vabbè poi quello di svolgimento dell'hackathon che sono quelli che coinvolgono i partecipanti ma rimanendo su questo processo ci chiediamo l'organizzatore dell'hackathon che c'è lo conosciamo fa delle cose ma non le fa in questo processo lui che interesse ha dal punto di vista di questo processo? allora un interesse il primo che ci viene in mente ma che però buttiamo via subito è lui vuole avere tanti partecipanti questo sarebbe un KPI di input generale numero di partecipanti che richiedono l'iscrizione perché lo buttiamo via? sicuramente lui è interessato in questo ma non è un KPI di questo processo perché il numero di partecipanti che fa una domanda non dipende da nulla di ciò che posso fare all'interno di questo processo per avere più partecipanti non è che vado a ridurre il tempo di risposta o vado a semplificare il form di iscrizione e allora di conseguenza arrivano più partecipanti cioè non c'è un rapporto di causa-effetto c'è molto alla lunga il processo è bello la gente ne parla bene l'anno dopo forse chissà arriva qualcuno ma sai non possiamo andare a dipendere da questi tipi di di influenza se io volessi avere più partecipanti dovrei fare una miglior promozione e comunicazione dell'evento farlo conoscere oppure dovrei mettere i premi più appetibili magari l'evento lo conoscono tutti ma alla fine vince una chiavetta USB e va a estendere come quel bellissimo concorso di idee che è uscito due settimane fa da parte del CSI Piemonte adesso poi mi vengono a picchiarmi ma se sento la registrazione in cui è un concorso di idee che hanno lanciato su non mi ricordo neanche più bene nuove idee CSI Piemonte è una società di informatica che lavora per gli enti pubblici qua in Piemonte è molto ben nota e comunque questo concorso dice che era rivolto agli enti di ricerca quindi neanche agli studenti proprio agli enti dipartimenti ricercatori o anche agli studenti ma non solamente e alla fine dicevano ah c'è un concorso in cui mandateci delle idee con un certo modello già con l'idea articolata con le risorse il piano di lavoro i tempi e quelli che saranno giudicati migliori verranno pubblicati su questo sito dopodiché l'ente in questo caso il CSI si impegnava anzi non si impegnava dichiarava che su quelle di suo interesse avrebbe poi fatto dei bandi per realizzarle bandi che potevano essere vinti da chiunque anche non da chi ha proposto l'idea bandi aperti e in ogni caso se avessero deciso in partenariato con altri oppure in house di sviluppare l'idea loro si riservavano la proprietà dell'idea stessa cioè nel momento in cui tu gli la mandavi non avevi più nessun diritto da rivendicare sul fatto che loro la realizzassero oppure no da soli o con altri allora capite che la comunicazione magari c'è stata tutti l'hanno saputo ma come hanno detto le regole hanno detto no quindi in questo caso non c'è l'incentivo a partecipare a quel tipo di competizione quindi molte volte gente magari spende soldi in promozione in pubblicità ma in realtà dovrebbe spendere soldi in ricompensa o cose del genere molti eventi in giro sono di questo genere fate attenzione a che cosa c'è per voi in cambio cosa c'è per loro lo sanno cosa c'è per voi si dimenticano vabbè parte la parentesi era per ribadire che indipendentemente da come si sarebbe svolta la competizione se il modulo è a lungo o corto i tempi di risposta è a lungo o corto eccetera il numero di persone che fanno domanda dipende da altri fattori non dallo svolgimento dell'iscrizione o della competizione questo è il motivo per cui quando diciamo i KPI generali non sono i KPI di questo processo sono dei valori di contesto del processo cioè di ciò che succede prima dopo intorno sopra sotto questo processo che determina quel valore quindi se io come responsabile sono interessato a massimizzare a valutare insomma il numero di iscritti all'hackathon ottimo però andiamo a ragionare nel processo di proporzione pubblicitazione conoscenza esplodizzazione eccetera che è un altro processo non è questo sarà un KPI di quell'altro processo il cui output di quell'altro processo è il fatto che le persone si iscrivano no? un'organizzazione un'azienda ovviamente è un insieme di processi e l'output di un processo può essere l'input di un altro quindi quando vi stupite perché vi dico ma il numero di iscritti non è un KPI per l'organizzatore in realtà quello che sto dicendo non è un KPI per l'organizzatore in questo processo è sicuramente un KPI per l'organizzazione in un processo diverso che è un qualche processo che possa avere influenza che possa influenzare modificare il numero di iscritti quindi anche qua di nuovo ci mettiamo un po' di paraocchi e cerchiamo di vedere solo ciò che c'è dentro questo processo perché altrimenti va a finire tutto dentro e ci perdiamo allora vedendo questo processo l'organizzatore e quindi sapendo che da questo processo non posso influenzare il numero di iscritti quello sarà magari un KPI generale ma non è un KPI obiettivo una cosa che l'organizzatore vorrebbe è non perdere iscritti per strada come un qualunque commerciante sa è un conto avere il cliente che entra in negozio e un conto avere il cliente che compra se parliamo sia del commercio fisico che di quello online allora cosa succede la differenza tra i partecipanti che si iscrivono e i partecipanti che effettivamente partecipano perché sono entrati a far parte di un team abbiamo detto prima non tutti gli A diventano B l'abbiamo parlato a proposito dei partecipanti l'A era un problema di che tempi calcolare eccetera qui può essere un problema di perdita di opportunità ho un certo numero di persone che si sono iscritte e per qualche magagna del processo di iscrizione alla fine non riescono a portare a termine l'iscrizione stessa in questo caso perché magari il meccanismo di formazione dei team è farraginoso è lento i motivi possono essere diversi ma alla fine io avevo 100 persone che hanno aperto un'iscrizione solamente 80 fanno parte di un team e quindi potranno partecipare alla gara questa è sicuramente una misura che se io fossi l'organizzatore vorrei vedere al 100% a costo di fare il team io a caso o a mano che potrebbe essere una possibilità correttiva se mi accorgo che quel numero è troppo basso allora magari predefinisco i team in qualche modo vabbè mi invento qualche altro processo quindi quello secondo me è la prima o meglio è uno degli obiettivi prevalenti per l'organizzatore sul processo di iscrizione cioè il fatto che tutti l'obiettivo è che tutti i partecipanti che si iscrivono possano formare un team formare entrare a far parte di un team questo dal punto di vista del singolo partecipante è meno importante cioè io se mi iscrivo per me non mi importa se il 20 o il 25 o il 10 per cento degli altri partecipanti non riesce poi a entrare in un team cioè mi interessa quanto lavoro devo fare io e quanto tempo ci metto a entrare in un team io quindi questa è una metrica che al partecipante non interessa invece ad esempio probabilmente il nostro tempo di lead della richiesta è un KPI che può essere interessante anche per l'organizzatore perché in qualche modo visto che tutto questo processo si basa su questo ping pong di richieste e risposte mi fa capire quanto è fluido questo meccanismo come dicevamo prima se parlando del partecipante se questi tempi si allungano troppo bisognerà in qualche modo l'allungarsi di questi tempi aumenterà anche il rischio che una persona non si iscriva alla fine quindi può darsi non sto dicendo di no questo può essere un esempio che uno stesso KPI possa essere indicativo utile per stakeholder diversi assolutamente sì e invece ci sono altri KPI che sono specifici uno stakeholder interessano un altro posso invece non interessare per nulla allora prendendo il primo proviamo a dettagliarlo tutti i partecipanti che si iscrivono possono far parte di un team l'obiettivo è che tutti lo possano farlo quindi la procedura di fatto è calcolare la frazione di iscritti che alla fine entra in un team che è un po' quasi è talmente semplice questo indicatore che sembra quasi di riscrivere la stessa cosa perché si calcola in modo ovvio la formula è contare quanti passano da B rispetto a quanti sono passati da A è un modo di contare questo analizzando il diagramma delle attività l'altro modo può essere quello di analizzare il diagramma delle classi in cui conto dove è andato il numero di partecipanti rispetto al numero di partecipazioni del team a un team quindi prendo il team faccio la somma di tutte le partecipazioni di quel team e lo divido per il numero di partecipanti alla fine dovrei ottenere lo stesso numero perché quando nel processo scrivo no sempre l'altro quando nel processo scrivo ma dai il sistema informativo aggiorna il team qua sotto e quindi vado a misurare un passaggio per il punto B sto in realtà il sistema informativo aggiorna il team significa andare ad aggiornare questa relazione qua sul team quindi è la stessa cosa da una parte lo conto mettendo un traguardo al token quando passa di lì conta uno dall'altro a bocce ferme a iscrizione avvenute vado a interrogare il modello concettuale e strago le stesse informazioni perché già per motivi operativi già per livello operativo di questo sistema informativo mi serviva quella informazione quindi a posteriore la posso rianalizzare quindi questo qua lo posso contare così analizzando il diagramma dell'attività oppure potrei fare abbiamo detto il conteggio del di ogni team punto come si chiama questa relazione non l'abbiamo chiamata componenti fratto il conteggio del partecipante partecipante e dovrebbe darmi lo stesso numero chiaro che nel primo caso la fonte sarà l'activity diagram quindi chi mi va a implementare i processi dovrà mettere nel punto giusto un contatore che si incrementa oppure il class diagram semplicemente vado a interrogare le informazioni che ci sono lì e ci sono perché già servivano a livello operativo se vogliamo questo secondo modo tra virgolette mi costa di meno perché non devo aggiungere un requisito funzionale di calcolare B e A i passaggi da B i passaggi da A poi in realtà non è vero perché i passaggi da B i passaggi da A già li misuro perché mi servono per l'altro che il PI quindi la misura addirittura il tempo non solamente il numero di volte però per dire la stessa strategia di calcolo può essere anche attuata in modi diversi obiettivo strategia o procedura che si chiama e formula sono su tre livelli diversi lo stesso obiettivo si può raggiungere con strategie diverse e la stessa strategia può essere ottenuta magari con metodi di calcolo diversi questa cosa qui cosa mi dà? mi dà una percentuale quindi anche la scala ecco la scala di una percentuale qual è? di un rapporto che tipo di scala abbiamo? una scala di rapporti o una scala assoluta? chiedo queste due perché avendo lo zero un significato ben chiaro se lo zero per cento vuol dire che nessuno partecipa all'hackathon non è arbitrario lo zero non posso spostare a piacere quindi le scale che hanno lo zero fisso sono solamente la scala di rapporti e la scala assoluta il valore che sto misurando è un numero è un numero puro è un rapporto tra quantità quindi è una scala di rapporti e una scala assoluta è una scala di rapporti lo so che vi ho ingannati perché lo posso misurare in percentuale lo posso misurare con una frazione non c'è un modo solo se io dico 20 è 20% potrebbe essere 200 per 1000 potrebbe essere 0.2 come frazione 0.2 come numero frazionario quindi sono tutti ovviamente riconducibili l'uno all'altro queste misure a seconda del fondo scala che scelgo e questa è la tipica caratteristica delle scale di rapporti tanti modi di misurare le cose tutti proporzionali tra di loro cambiano solo in base a un fattore di proporzionalità però questo fattore di proporzionalità è arbitrario se scelgo di misurare in percentuale il fattore di proporzionalità vale 100 se scelgo di misurare in frazioni il fattore di proporzionalità vale 1 quindi in questo caso ho un numero sulla scala dei rapporti che curiosamente se vogliamo lo ottengo facendo la divisione tra due numeri che alla fonte erano sulla scala assoluta perché i conteggi hanno un numero sulla scala assoluta quando ho il rapporto tra di loro a seconda che io faccia il rapporto puro oppure il rapporto moltiplicato 100 allora ottengo una misura che è sulla scala dei rapporti non che cambi molto perché tanto abbiamo visto che sia sulla scala dei rapporti che sulla scala assoluta è possibile fare qualunque tipo di operazione statistica quindi non ci preoccupa molto questa lieve differenza però già che ci siamo la notiamo l'interpretazione allora quando è che è ottimo? 600% è un ottimo raggiungibile o un ottimo fasullo? cioè facciamo attenzione non ha senso proporre un obiettivo finale che sappiamo già che non lo leggeremo mai cioè fare un semaforo che sappiamo già per costruzione che non diventerà mai verde ma sarà sempre solo giallo rosso non è da furbi ci prega di un grado di valutazione allora è vero che l'ottimo degli ottimi è 100% va bene come dire che il tempo di risposta ottimo è 0 secondi ok ma poi non ci porta da nessuna parte questo ingegneristicamente non ci porta da nessuna parte non ci dà nessuna informazione allora qui chiediamoci questo 100% pensiamo che sia ratingibile o magari ci sarà una perdita fisiologica e quindi magari ci accontentiamo che sia almeno il 95% perché sappiamo magari è normale uno si iscrive poi ha degli imprevisti gli passa la voglia gli viene mal di pancia chi lo sa e poi non partecipa o perlomeno non completa la procedura di iscrizione tra l'altro questo numero questo 95% è ancora troppo alto se andiamo a vedere la realtà cosa dicevamo quando parlavamo dell'interpretazione di come definire l'interpretazione dovremmo andare a vedere avere dei dati reali per capire qual è un valore normale o un valore buono di quell'indicatore io mi ricordo parlando con le persone dell'incubatore che ogni anno organizziamo un evento per i miei studenti di ambito di intelligence in cui vanno a presentare i progetti al pubblico allora c'è sempre lì da dire ma quante persone invitiamo quanti verranno eccetera quando organizzo eventi lavori sempre su incognite sempre però loro hanno una storia loro che organizzano praticamente due eventi al mese dicono ma guarda normalmente rispetto agli iscritti noi calcoliamo che si presenterà circa il 40% delle persone quindi quello che loro considerano un risultato nella norma è circa il 50% rispetto agli iscritti e infatti un giorno mi hanno detto anzi hanno guardato un altro evento in cui c'era un hackathon proprio in cui hanno messo un costo d'ingresso un biglietto d'ingresso cioè normalmente questi eventi qui hanno sempre degli sponsor dietro e quindi sono gratuiti per i partecipanti e quella volta era anche uno sponsor abbastanza diciamo con le spalle ben coperte che aveva organizzato questo hackathon ma c'era un biglietto d'ingresso di 10 euro e io ho detto ma perché cioè perché fare i pezzenti chiedere dei soldi quando comunque hai uno sponsor che ti paga il catering ti paga i premi eccetera eccetera e la risposta è stata abbiamo messo quella fee perché così chi si iscrive è più motivato a venire davvero o meglio al contrario si iscrive solo chi è veramente motivato a venire gli fai cacciare la 10 e allora chi dice ma provo a iscrivermi poi decido non si iscrive chi dice no mi interessa allora mi iscrivo questo passo in più di versare un piccolo obolo gli permetteva di aumentare la percentuale di persone che effettivamente partecipava rispetto a quelle che si erano iscritte quindi non è tanto per recuperare perché lì probabilmente con gli introiti hanno recuperato il 10% delle spese che hanno avuto quindi non è quello che gli cambiava la situazione ma era per evitare anche di sovradimensionare un evento rispetto al numero dei partecipanti che poi invece si rivelasse troppo piccolo quindi questo è un esempio magari empirico di una modifica del processo che è stata fatta per cercare di migliorare un indicatore che valutavano critico perché tu il giorno prima ti vedi 150 iscritti telefoni a quelli del catering e dici guardate che saremo in 100 poi te ne arrivi a 60 tu hai buttato via i soldi e la roba quindi è per dire che sulla carta certe cose sembrano funzionare in un certo modo avendo invece magari la possibilità quando si ha la possibilità di andare ad accedere a informazioni provenienti da aziende che fanno cose simili o da esperienze simili quindi un po' di benchmarking uno riesce a impostare questi indicatori in modo molto più sensato quindi a me verrebbe da dire se metto diciamo così in comune questa esperienza che l'ottimo è già un 70% che il mio processo non prevede pagamento non prevede cancelli eccetera eccetera è accettabile cosa fa se è maggiore del 40% ad esempio uno può vedere queste cose e mi dice ma che pessimista che sei perché purtroppo molto spesso cioè quando uno definisce gli obiettivi è sempre molto si slancia sempre molto in avanti poi lo facciamo così lo valutiamo il primo anno se il primo anno vediamo che che va bene che questi numeri alziamo le soglie siamo sempre in tempo non alzare però abbiamo degli indicatori che sono verdi per cui da questo punto di vista non ci preoccupiamo se vogliamo far meglio alziamo gli indicatori quindi ci diamo l'anno prossimo l'obiettivo di alzare questi numeri piuttosto che invece mettere numeri molto alti se avessi messo 95 qua e 80 qui avrei avuto avrei avuto un rosso fisso su questo indicatore su questo semaforo e che non mi permetteva di capire avrei perso un anno per dire ah sì è così allora ridefiniamo e ricominciamo da capo a pensare categoria che essenzialmente è ciò che ci separa dal caffè dove lo mettiamo questo KPI? e di nuovo io lo metterei nella categoria di servizio perché è un raffronto in questo caso non è una sottrazione ma non è un rapporto tra un'uscita cioè il fatto che un'iscrizione sia entrata a far parte di un team e un ingresso cioè un partecipante che inizia l'iscrizione quindi ad esempio potrebbe ricadere nella categoria dei perfect order cioè un ordine iniziato che viene portato a termine correttamente il rapporto degli ordini perfettamente conclusi degli ordini delle richieste perfettamente conclusi indipendentemente dal tempo perché qui avrei anche l'altra possibile indicatore che è il rapporto degli ordini che sono stati consegnati in tempo ma qui non stiamo misurando i tempi ma solamente le quantità quindi qui in questo caso siamo nel caso di service barra perfect orders lo chiamo imbuto iscrizione di quanto si stringe l'imbuto tra i partecipanti e gli effettivamente quanti ne perdo per strada sarebbero i carrelli abbandonati di un sito di commercio elettronico quante volte tu metti un oggetto nel carrello e poi non lo compri ecco l'organizzatore di solito potrebbe avere altri indicatori che sono anche di di efficienza di costo in questo caso dicevo questo esempio qua non riusciamo a farli emergere proprio perché la procedura è del tutto automatica quindi non abbiamo delle risorse spese per ogni iscrizione anzi sono i partecipanti stessi che spendono del loro tempo all'organizzatore non interessa non è un costo per l'organizzatore il tempo dei partecipanti quindi in questo caso nel caso dell'efficienza dal punto di vista dell'organizzatore si vede abbastanza poco quindi l'organizzatore abbiamo detto interessa sicuramente il numero di iscritti ma non è in CAIPA di questo processo la percentuale di iscritti che si perdono per strada che abbiamo misurato con questo indicatore 1 il tempo perso nella formazione dei team che è lo stesso indicatore dei partecipanti non so se qualcuno di voi viene qualche idea brillante o di per un terzo che API ma al momento per per l'organizzatore in realtà ci sarebbe un dettaglio che in cui però già anche il testo dell'esercizio non era particolarmente preciso lo accenno solo poi lo lasciamo cadere i team ho definito la dimensione massima dei team ma non ho definito la dimensione minima dei team per cui a me come organizzatore se ho tanti team di due persone forse forse mi crea un problema perché è più difficile magari assegnare il challenge oppure ne premio di meno in certo senso percentualmente se io ho magari tre premi da dare se ho tre team o se ho dieci team da cinque persone sui dieci team ne premio tre se invece a parità di iscritti cioè cinquanta iscritti avessi venticinque team di due persone i miei tre premi vanno solamente a due ho perso il conto due team su venticinque quindi sono meno per carità quelli lì sono più contenti perché si prendono lo stesso premio con meno se lo dividono in due anziché dividerselo in cinque allora il fatto che questo processo formi dei team di dimensione più o meno uniforme e più o meno vicina la dimensione massima è qualche cosa che interessa l'organizzatore cioè l'organizzatore dice io faccio i team da sei quel numero l'ha messo lui poi c'è un processo che non è nelle sue mani attraverso i quali i team si formano io vado a vedere come sono fatti questi team e mi chiedo ma questi team sono la dimensione che io mi aspettavo quindi se ho messo sei come massima mi aspetto probabilmente team di 4-5-6 persone altrimenti è un casino altrimenti devo intervenire se avete mai fatto sicuramente dei corsi in cui c'è da fare dei lavori di gruppo formare i gruppi è sempre un casino perché tu hai l'80% degli studenti che ti propongono il gruppo e dici fate gruppi da 4 arrivano lì con il gruppo da 4 va benissimo e poi alla fine 20% dei studenti sono da solo noi siamo in due cosa facciamo con chi possiamo andare e c'è sempre un tiramo all'infinito a gruppi già fatti magari che hanno già iniziato a lavorare quindi questo è un fattore che ricade sulle spalle sicuramente dell'organizzatore quindi questo magari lo potremmo misurare come terzo KPI lo scrivo con l'obiettivo che è qua avere gruppi di dimensioni team si chiamano di dimensioni uniformi possibilmente vicine al massimo e poi pensiamo come calcolarlo ma adesso è ora di fare una pausa grazie grazie